Mi chiamo Matteo Vitolo, ma per dieci anni sono stato Nino Esposto. Mi ricordo di lei, lei è quel ragazzo che cantava le canzoni di Nino D'Angelo. Certo, Nino D'Angelo è inimitabile, però lei era bravo, specialmente quando cantava le sue canzoni, intendo quelle scritte da lei. Mi pare che lei fosse dedicata a suo padre, c'era il paradiso, un angelo, come si chiama? Mi chiamano Nino. Bravo, bravo, mi chiamano Nino. E lei perché è qua? Perché la vita che sto vivendo praticamente non è più vita, ho detto, ansia, attacchi di panico, depressione, ormai non riesco neanche più a cantare. E ho bisogno di tornare a cantare, dottor. Anche perché l'ho promessa la persona più importante della mia vita. Freud diceva, dalle tue vulnerabilità nascerà la mia forza, e il caro Matteo la deve trovare. E da quanto tempo non canta? Sono tre anni. Vi parli un po' di quella sera. 5 luglio 2019. Ero a Palermo. Come faccio a far capire, signora? E vi sto capendo, stasera un matrimonio della figlia vostra che ho preso via Napoli. Signora, mi viene anche da sorridere, mi stanno a Palermo. E' una nottata di mare. E' una nottata di mare. Come? Prima maniera nuova, rimane al matrimonio. Ciava cinque. Stanno vinticinque cantando tutta la nottata per i beni. E che faccia a ricerlo? Mi scusi? Faccia a ricerlo niente più. Prego. Potrei parlare gentilmente con Matteo? Chi è Matteo? Nino. E' un attimo solo che ve lo faccio. Grazie. Nino, scusami. Che faccio? Stanno a guaglione a volerla trasera. Che faccio? Oggi forza è la stessa storia. Mamme, non è un cattivare che non gli voglio fare entrare. Ti ha anche l'ansia, eppure mi conosci. Nino, stanno a passare. Sì, fai trasera questa guaglione all'ansia da passare. Veramente. È bello. È bello. Chi vuole essere di una trenta anni a rete? E' fanno entrare. Signori, prego. Sì. Ho capito? A te lo sace una cosa di pressa e di pressa. Signore Maragoni. Io sono Gaia. Ciao. Lo so che prima di un concerto sei sempre teso, però volevo che mi firmassi questo. Chissà, questo è il mio primo album. Pochi l'hanno comprato, solo che veramente mi vuole bene. Me la canti chissà? Mi sembra. Mi sembra il film di Nino Dancia. Comunque te la canto. Nino, stanno a cominciare. È partito da prima, basta. Signori, un uccidenti, stanno a me, stanno a me, stanno a me. Adesso devo lasciare il numero di telefono sul disco. Signori, un uccidenti, muro, muro. Ma io figlio di merda, è rimasta questa giù scaldita. Signori, un uccidenti di portafoglia. Ma che ci perdi? Nino, uscendo da Palermo, facciamo un concerto, ti aspetta tanta gente. Che l'ho, si rindo, spero una. O palco sta montato, aspetta le canzone. Dendo la camera, prima canta, si è venuta a me chertar. Che un uccidenti di portafoglia. Adesso, e non o cammini di portafoglia. S confirmationi! Che dreoni di portafoglia. Io sia through it, allora poets. Dio me guardavi, mishgordavi, canciona Belli ballarmi stasera Belli bè kishamman gondrati Lola per lisho gancharzi Valla schienzi ematte Chi si sarebbe immaginato Tornato innamorato Non ci credevo più Da questo nostro grande amore No figlio tu merate E non ci crederà ancora Ero troppo bello per far niente così Voglio spiegazione a dir E moca il racconto a sta criatura Chi a mamma dosta Falarmo che la ziraccio valla Mietza tutta s'agenda Chi si sarebbe uradu Noggo più stretta in la gola Si dio me guardavi, mishgordavi, canciona Belli ballarmi stasera Belli bè kishamman gondrati Lola per lisho gancharzi Valla schienzi ematte Papà 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 Mi racconti la storia della mamma? Un'altra volta papà Ma te l'ho raccontata cento volte Ma stasera Stasera stiamo a parermi Da qua ti ho conosciuto la mamma E già papà E caga ci conosciuto la mamma due Ma Ma la mamma La mamma Com'era? E la mamma E la mamma La mamma Arroppando con mattia Papà Grazie a tutti Grazie a tutti